I posti letto in area medica dedicati al covid verranno ulteriormente incrementati nei prossimi giorni in modo da poter far fronte all'aumento dei contagi e dunque delle ospedalizzazioni che probabilmente si avranno nelle prossime settimane. L'annuncio lo ha dato il presidente della regione Calabria Roberto Chiuto che ha riunito alla cittadella l'unità di crisi per affrontare le emergenze legate alla pandemia e per fare il punto sulla campagna vaccinale. Si sta ipotizzando di utilizzare come covid ospital i presidi sanitari di Rogliano, Cariati e Tropea e di attivare in tempi strettissimi e grazie al personale messo a disposizione dell'ASP Villa Bianca Catanzaro. Grazie alla collaborazione del dottor Miozzo saranno inoltre adottate nel giro di una decina di giorni delle procedure per curare a casa i ricoverati meno gravi in modo da decongestionare la pressione sulla rete ospedaliera. Un progetto che la regione Calabria sta portando avanti in sinergia con l'ospedale Gemelli di Roma. C'è da prepararsi ad ogni scenario, anche ad uno scenario emergenziale. Per fortuna grazie alle vaccinazioni, al senso di responsabilità dei calabresi stiamo arginando un problema che invece avrebbe potuto generare come dire la zona rossa per la Calabria regionale. Ma c'è la rete ospedaliera che è sotto pressione, soprattutto per i ricoveri in area medica. Abbiamo pensato ad incrementarne ancora il numero, ne abbiamo aumentati già tanti perché quando mi sono insediato mi pare ce ne fossero 1.040, ora siamo a 1.077 posti letto. probabilmente nei prossimi giorni se ne attiveranno altri 60, 70, 80. Ci stiamo ragionando e poi stiamo valutando anche le possibilità che ci sono offerte alla telemedicina per curare a casa molti pazienti che potrebbero essere assistiti a domicilio e che spesso sono ricoverati nei nostri ospedali senza averne davvero necessità. Tutto questo lo stiamo facendo mentre si tratta di riorganizzare anche il sistema sanitario. Dobbiamo aprire gli ospedali, costruire le case di comunità, rendere più efficiente il dipartimento. Ci stiamo occupando di riparare questa nave della sanità che era una nave in mare aperto alla deriva, senza rotta, mentre siamo nella tempesta.